Chiaramente sempre sentire il presidente parlare bene è molto positivo, io qui ho un buon rapporto con i tifosi, con il presidente, il direttore sportivo, le staff, la gente qua, sono molto contento e voglio vincere. Ho fatto sempre l'approccio mio e mia squadra, provare a vincere dal primo giorno, qui abbiamo un'opportunità, la Coppa Italia è una competizione importante, se possiamo arrivare in finale e vincere in finale sarà perfetto, ma sappiamo che ancora la Roma sarà un ostacolo importante.